Insieme a uno dei nuovi volti di Interwomen, Alessia Piazza, benvenuta all'Inter innanzitutto. Grazie mille. Ci racconti un po' le emozioni e le sensazioni che provi in questo momento? Sicuramente sono emozioni difficili da descrivere, sono molto felice di essere qui e di poter indossare questa maglia. Infatti non vedo l'ora di iniziare gli allenamenti per poter inonorare proprio questa maglia. Che cosa rappresenta per te l'Inter e questa società? L'Inter è sicuramente una società molto importante che ha fatto tanta storia per il calcio italiano e nel calcio italiano, anche quello europeo. Secondo me è un grande traguardo per qualsiasi calciatore riuscire a indossare questa maglia, per questo sono molto contenta di poterlo fare quest'anno. Per chi non ti conosce ancora in maniera approfondita ti chiedo che tipo di portiere sei e come ti descriveresti? Sicuramente mi reputo un portiere molto istintivo, quindi reattivo, però negli anni che ho imparato ad apprezzare la tecnica soprattutto della scuola italiana e quindi lavoro molto sui particolari. Quella che sta per iniziare sarà una nata storica per tutta la realtà femminile con tantissime novità, il professionismo, la pulscodetto, il pulsalvezza. Che tipo di stagione ti aspetti? Secondo me sarà una stagione molto avvincente, proprio dato dal numero ridotto delle squadre in Serie A, dato il professionismo, quindi ci sarà un livello molto più alto rispetto all'anno passato, agli anni scorsi e sarà quindi di conseguenza molto competitivo. Alessia, grazie e buco al lupo! Viva il lupo! Grazie a tutti!